L'annuncio è di quelli di primaria importanza in considerazione del forte radicamento del gruppo leader del fashion e della moda, anche in Val D'Arno. Patrizio Bertelli, il patron di Prada SPI, in un'intervista subito amplificata dalla rete rilanciata dalle agenzie, ha confermato la volontà di tornare ad assumere, con ricadute preziose, negli stabilimenti del comprensorio. Ribadita inoltre la linea operativa del colosso industriale, che ha riportato l'83% delle produzioni in Italia, consolidando le radici aretine e valdarnesi dell'azienda. Quanto all'occupazione Bertelli ha applaudito alle nuove norme sul lavoro, con il Jobact ha commentato, ad una precisa richiesta di esprimersi sulle regole introdotte su input del governo Renzi, si sono verificati in dubbi benefici per le imprese del manifatturiero, con la conversione dei contratti a tempo determinato in quelli indeterminati. Sui tempi e le modalità, l'imprenditore ha lasciato intendere che la ricerca dei nuovi assunti si completerà entro l'anno e riguarderà profili professionali specializzati ed esperti nella produzione di capi in pelle di lusso, addetti al taglio, alla preparazione, al montaggio banco e macchina, alla rifinitura ed altre figure tecniche. Nelle prossime settimane saranno rese note le modalità operative per consentire a chi possiede i requisiti di farsi avanti.